parliamo di esercizi di fisica il primo esercizio dice questo calcolare il lavoro che un campo elettrico uniforme e di 200 newton su coulomb compie su un protone quando la carica si muove per tre metri nel campo qual è la differenza di potenziale fra questi due punti io rappresento il campo elettrico uniforme i due punti a e b e naturalmente l'intensità del campo 200 newton su coulomb cosa possiamo dire sappiamo che il lavoro in un campo elettrico uniforme possiamo scriverlo come il prodotto scalare di f scalare delta con s e siccome in questo caso il vettore forza elettrostatica che agisce sulla carica abbiamo detto di un protone e spostamento sono paralleli la diciamo l'intensità del prodotto scalare è uguale al modulo di f con e per delta con s per coseno di zero gradi o di zero radianti che vale 1 quindi diciamo che il lavoro corrisponde ad f con e per delta con s dove f con e la forza che agisce sul protone delta con s lo spostamento nel passare dal punto a al punto b che compie naturalmente il protone la forza che agisce sul protone è il prodotto della carica q per il campo elettrico e quindi abbiamo che f con e è uguale ad e per intesa come carica naturalmente positiva del protone pertanto ricordando che il protone a carica è pari ad 1,6 per 10 alla meno 19 coulombo calcoliamo la forza elettrostatica che agisce sul protone che è pari ad 1,6 per 10 alla meno 19 coulombo per 200 newton su coulombo che è l'intensità del campo elettrostatico quindi arriviamo a determinare un valore della forza elettrostatica pari a 3,2 per 10 alla meno 17 newton sappiamo anche per rispondere alla domanda del problema di determinare la differenza di potenziale nel passare da a b il lavoro inteso come prodotto scalare di forza spostamento può anche essere inteso in presenza di forze conservative come differenza di energia potenziale quindi u con a meno u con b quindi il lavoro che io calcolo pari ad f con e per delta con s pari quindi a 3,2 per 10 alla meno 17 per 3 3 sarebbero appunto i metri di spostamento corrisponde in joule a 9,6 per 10 alla meno 17 joule quindi ricordando il concetto di lavoro in presenza di forze conservative come variazioni di energia potenziale io applico questa relazione metto in relazione il lavoro calcolato col metodo diciamo classico forza spostamento prodotto scalare con il lavoro di forze conservative corrispondente a una variazione di energia potenziale che io scrivo con a meno con b ma u è q per v quindi si può scrivere u con a meno con b come q che moltiplica v con a meno v con b da questa relazione ricaviamo che la differenza di potenziale v a meno v b altro ne che il rapporto del lavoro diviso la carica q quindi 9,6 per 10 alla meno 17 fratto 1,6 per 10 alla meno 19 quindi abbiamo una differenza di potenziali di 600 volt quindi nel passare da a b io ho una diminuzione certo di potenziale applicata ad un protone abbiamo detto la carica che è soggetto ad una forza che è equiversa se vogliamo al vettore campo elettrico in quanto carica positiva vediamo l'esercizio numero 2 dice che un elettrone questa volta la carica è negativa passa fra due punti a e b nel punto a esso una velocità di 6 per 10 alla 5 metri al secondo calcolare la differenza di potenziali tra i due punti affinché sia v con b uguale naturalmente a 0 ora vediamo un pochino in questo caso mettiamo allora diciamo subito questo che lo svolgimento è il seguente io ecco risolvo questo esercizio ponendo che il lavoro inteso come naturalmente u con a meno con b in presenza di forze conservative può anche essere pensato come variazione di energia cinetica quindi k con b meno k con a tra i due punti in cui si sposta diciamo l'elettrone naturalmente ricordiamo che si parte da un k con a un mezzo m v a quadro e si arriva a un k con b un mezzo m v b quadro però sappiamo che la velocità finale è 0 quindi k con b uguale a 0 sfruttiamo la relazione che il lavoro uguale ad u con a meno con b differenza di energia potenziale quindi poniamo un mezzo di m v b quadro meno un mezzo di m v a quadro che sarebbe la differenza tra l'energia cinetica finale e quella iniziale uguale a una variazione di potenziale tra l'energia potenziale iniziale e quella finale questa relazione mi consente di calcolare la differenza di potenziale tra i punti a e b facendo la formula inversa cioè meno un mezzo m v a quadro fratto q qui la 1 può ricavarla ponendo v b uguale a 0 quindi il termine un mezzo m v b quadro si elide e lì nel senso è nullo e qui ricaviamo che la differenza di potenziale del passare da b uguale a più 1,02 volte quindi passiamo da un punto a a un punto b con un decremento di energia potenziale ricordiamo che l'elettrone è carica negativa quindi è soggetta è soggetto ad una forza elettrostatica che non è equiversa al campo elettrico ma è controversa se vogliamo al campo elettrostatico quindi qui riassumo diciamo le cose che la uno deve ricordare quali sono il valore della carica elettrica in presenza naturalmente della c'è dell'elettrone che è 1,6 per 10 alla meno 19 e cuno carica negativa meno e la massa elettrone che è 9,1 per 10 alla meno 31 kg sono dei dati che abbiamo utilizzato per risolvere questi problemi vediamo di risolvere un altro esercizio ecco qui dice questo due condensatori della capacità di 6 microfarad e due resistenze di 2,2 e chilommo ed una batteria da 12 volt sono collegati in serie come in figura adesso vediamo la figura i condensatori sono inizialmente scarichi calcolare la corrente iniziale nel circuito non appena il circuito viene chiuso e il tempo t in cui la corrente vale 1,2 milliampere allora io qui riporto la foto del circuito iniziale del circuito finale abbiamo i due condensatori in serie e le due resistenze in serie che vengono tradotte riportando il circuito in un altro equivalente formato da un'unica resistenza e da un unico condensatore naturalmente questo mi porta a calcolare la resistenza equivalente che pare alla somma delle due resistenze in serie mentre per la capacità equivalente del condensatore non posso sommare direttamente le due capacità ma devo ricordare che quando sono in serie i condensatori va la relazione che 1 su c equivalente è uguale a 1 su c1 più 1 su c2 in questo caso 1 su c più 1 su c quindi ricaviamo che c equivalente c mezzi è la metà della capacità di un condensatore quindi io qui riporto i conteggi quindi possiamo ridurre il circuito di figura 1 al circuito equivalente di figura 2 diciamo che la resistenza equivalente vale la somma delle due resistenze cosa che non si può dire per i condensatori la cui capacità è la metà della capacità di un condensatore a questo punto abbiamo un circuito su cui noi ragioniamo la domanda è cosa accade in questo circuito è un circuito in cui circola una corrente diciamo che lo stesso condensatore si comporta come se fosse un elemento di conduttore che aiuta fungere quasi da ponte nella diciamo nella circolazione della corrente attraverso la resistenza r r equivalente è chiaro che il condensatore inizialmente scarico quindi durante questo processo di carica le armature iniziano ad accumulare carica in modo crescente crescente significa che a un certo punto si arresta l'accumulo di carica perché si interrompe la corrente che circola nel circuito i diventa nulla ma diviene nulla quando la tensione tra le diciamo arma tra le armature la tensione del generatore è uguale alla tensione tra le armature del condensatore in quel caso non circola più corrente si è caricato il condensatore e può fungere diciamo da generatore nel momento in cui io cosa faccio lo riutilizzo in un altro circuito per produrre corrente quindi io qui in questo circuito scrivo l'equazione di maglia diciamo parto dal punto a percorro il circuito in senso orario e scrivo va meno vc meno i per r più vg uguale a va si ride va e va e quindi ricavo che la tensione nel generatore è la somma della tensione nel condensatore della tensione nella nel resistore e chiaramente la domanda che ci poneva intanto il problema era quanto vale la corrente all'istante zero quando io chiudo il circuito io ho il massimo della corrente è come se non ci fosse naturalmente il condensatore quindi la corrente vale per reggio di ohm ricordiamo che v uguale di per r quindi io dirò che è uguale a v del generatore diviso la resistenza equivalente questa corrente non dobbiamo aspettarci che rimanga costante nel tempo ma tenderà a decrescere secondo una legge esponenziale fino a che si annulla quando abbiamo detto le armature accumulano il massimo della carica cioè che corrisponde a una tensione di condensatore uguale a quella del generatore ideale nell'istante t maggiori di zero diciamo che ci troviamo davanti a questa legge che la tensione del generatore è legata alla tensione del condensatore a quello della resistenza da una variazione tempo anzi da una variabile tempo che compare nei due termini vediamo qt fratto c equivalente ed r per it qui l'alunno ricorderà che la corrente delta q su delta t cioè variazioni di carica fratto variazioni di tempo in temi diciamo istantanei possiamo utilizzare il concetto di derivata però va bene anche come rapporto incrementale carica tempo la velocità cioè la diciamo la tensione nel tempo quindi dipende dalla variabile tempo nel nostro caso noi abbiamo una tensione che è costante ed è quella del generatore che non varia nel tempo per cui io a questo punto se risolvo questa equazione differenziale posso arrivare alla soluzione della dell'equazione la coinconita è la corrente nel tempo che è del tipo vg fratto r equivalente quindi vg sta per tensione del generatore fratto la resistenza equivalente per elevato a meno t su rc qui l'alunno ricorda il grafico della funzione elevato a meno t su rc che è un grafico decrescente e dal valore massimo che corrisponde a vg su r equivalente che è la corrente al tempo zero fino ad annullarsi naturalmente al tempo t infinito è importante l'elettore di questo grafico che lo riporto qui in basso e questo è il grafico noi passiamo da un valore al tempo zero che corrisponde alla corrente che circola nel circuito appena chiudiamo il circuito poi vediamo una corrente che tende a zero al tempo infinito perché perché abbiamo detto che le armature sono già caricate quindi non accolgono più altra carica a quel punto il circuito smette di funzionare e quindi la corrente si annulla si annulla secondo questa legge esponenziale e notiamo che compare un termine molto interessante in questa formula il prodotto rc che è un tempo una costante di tempo che ci dice che dopo 5 tau il circuito smette di funzionare cioè non si caricano più le armature quindi noi possiamo considerare questo tau come un parametro di riferimento che moltiplicato per 5 ci dice quando ecco il circuito si è caricato cioè quando si sono caricate le armature del condensatore quindi diciamo che l'elettore di questo grafico ci dà la risposta al quesito cioè quanto hai la corrente al tempo zero abbiamo detto la risposta è vg fratto r equivalente quanto hai la corrente quando ovvero qual è il tempo o ovvero meglio ancora quale tempo abbiamo una corrente di 1,2 miliampere da questo grafico lo possiamo anche dedurre graficamente però si può risolvere il problema analiticamente ricordando che uno la formula che dobbiamo utilizzare è questa cioè la corrente nel tempo è uguale ad i con zero più elevato a meno t su rc quindi al posto di t metterò 1,2 miliampere al posto di con zero metterò la corrente al tempo zero che conosco l'ho ricavata prima vale naturalmente qui nei calcoli 2,7 miliampere è questa no vg su r equivalente quindi al tempo zero abbiamo una corrente di 2,7 miliampere a questo punto risolvo quella relazione che è una relazione che si offre utilizzando il concetto di logaritmo perché tutte le volte che è elevato a un qualcosa a una variabile uguale a un numero quella variabile altro non è che il logaritmo di quel numero quindi potrei dire che meno t fratto 0,0132 è logaritmo del rapporto 1,2 per 10 al meno 3 fratto 2,7 per 10 al meno 3 ampere risolvendo questa relazione riscopro che il tempo a cui corrisponde una corrente di 1,2 miliampere corrisponde a 0,011 secondi quindi abbiamo risposto al problema ma prima di chiudere il problema io mi soffermerei su alcune considerazioni critiche sul circuito nel senso che quali possono essere quando il circuito inizia a caricarsi la corrente scorre nel circuito attraversando anche l'elemento resistivo r equivalente la corrente scorre nel circuito fino a quando le armature del condensatore non sono completamente cariche l'abbiamo visto appena raggiungono una carica q smette di funzionare la corrente non circola più possiamo anche dire che inizialmente il condensatore accoglie le cariche ma al trascorrere diciamo del tempo l'accumulo di cariche sul condensatore ostacola l'arrivo di ulteriore carica e determina pertanto la diminuzione di corrente si dice che quando il tempo tende all'infinito il condensatore non accumula più carica quella corrente è pari a 0 anzi noi diciamo che senza far tendere t all'infinito a livello pratico si considera un tempo t pari a 5 volte tau 5r per c per dire che il circuito smette di funzionare smette di caricare l'armatura del delle armature del condensatore e nella pratica il processo di carica di un condensatore si considera terminato dopo un tempo di 5 tau qui ho riportato invece un grafico che invece rispecchia l'altra faccia del condensatore quando noi l'abbiamo caricato cosa ne facciamo semplicemente diventa un generatore di corrente in questo circuito c'è solo il condensatore che alimenta il circuito quindi produce corrente questa corrente tende a diminuire nel tempo come avveniva nel processo di carica perché perché fondamentalmente quando si scarica il condensatore non circola più corrente si passa si passa da un motore massimo che è l'affemmo frattuale perché ricordiamo che il condensatore ha una differenza di potenziale che è l'affemmo del generatore che lo ha caricato e poi tende a zero il segno meno anteposto alla formula della corrente del tempo è legato alla circolazione della corrente che è discorde come verso rispetto a quella che abbiamo visto nel processo di carica che è riportato in basso dove si vede proprio che queste piastre diciamo del condensatore tendono ad accumulare carica la cui carica si ferma quando raggiunge il valore pari a c per fem quindi quando sulle piastre abbiamo una q pari a c per fem non circola più corrente e corrisponde abbiamo detto l'elopratica ad un tempo pari a 5 tau cioè 5 volte rc ecco con questa ultima slide terminiamo la video lezione si invita l'alunno a consultare altre video lezioni sullo stesso tema presenti nel canale youtube petracca francesco fine della video lezione bellissima 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 Grazie.